bella a tutti i forniters benvenuti e bentrovati su leon2 in questo video andiamo a vedere come fare l'incarico e negli incarichi l'incubo 2 di fortnite l'incubo andiamo a fare distanza percorsa con scatto del mondo sotterraneo quindi ci dirigiamo adesso qui sono stato un po' fuori strada sbagliata ci dirigiamo dove c'è il mondo sotterraneo che da verde è diventato rosso ok ci buttiamo in acqua e iniziamo a fare lo scatto quindi percorriamo tanta strada no no non con questo e lascia e toglielo sto coso come si atterra ok devo lasciare il jetpack dai ok andiamo avanti vedete che è molto facile anche andare a fare la strada abbastanza veloce siamo già a 130 150 ed eccola qua l'incarico è completato se il video vi è piaciuto ragazzi mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti Grazie.